per prima cosa ritagliamo un pezzo di stoffa rossa questo è un misto cotone con ago e filo cuciamo insieme i lembi della parte più lunga una volta terminato tiriamo il filo della stoffa con attenzione ottenendo così un'arricciatura ora nuovamente con ago e filo chiudiamo anche i lembi corti per ottenere una circonferenza quindi fissiamo la cucitura con un doppio nodo prendiamo poi del tulle nero facciamo quattro strati a forma di fiore utilizzando un cartamodello preparato in precedenza utilizziamo quindi delle basi per anello dalla chiusura regolabile ed ora cominciamo ad incollare i vari strati usando la colla a caldo e alternando due strati di tulle la stoffa rossa e altri due strati di tulle e alternando due strati di tulle per finire per finire posizioniamo al centro un cuore infimo al quale è stato applicato anche un brillantino alla prossima buono scrap a tutti buono 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 abone